I lettori che preferiscono il tell allo show. Buongiorno da Livio Gambarini di Rotte Narrative. Oggi affrontiamo un argomento che è sempre molto divisivo, ovvero parliamo del famosissimo principio show don't tell, che è uno dei pilastri della narratologia contemporanea e che è anche una delle espressioni più travisate dell'intera storia della cultura umana. Io non ho esattamente chiarissimo perché tante persone continuino a fare una fatica tale a capire cosa significhi, però mi rendo conto che effettivamente parecchie delle cose che si pensano oggi corrette a proposito della scrittura creativa remano in direzione opposta rispetto a questo principio che quindi è ancora molto rivoluzionario sotto tanti aspetti e per tante persone, benché sia una questione un po' di ritardo culturale nostro, italiano, rispetto a altre nazioni che invece lo hanno assorbito e lo mettono in pratica con vantaggio del pubblico di lettura. E però appunto ci sono diversi, non è sempre così automatico che anche principi che hanno comprovato la loro validità in una serie di circostanze assolutamente schiacciante siano automaticamente migliori o preferiti da tutti. Anzi, oggi voglio leggervi una domanda che mi è stata fatta da un seguace del canale YouTube Rotte Narrative, quindi una delle vostre domande. Diamogli un'occhiata perché questa domanda porta effettivamente qualche... porta la lente d'ingrandimento un po' più vicino al nocciolo del problema, oltre il semplice è meglio il mostrato o è meglio il raccontato che è dove si arenano il 95% delle discussioni del genere con gente incolta. Invece questa è una domanda diciamo invece piuttosto colta, piuttosto erudita, che va oltre questo primo fuoco di sbarramento della fanghiglia. Diamo un'occhiata appunto a questa domanda. Scrive Luca una domanda per capire meglio il pubblico e come rapportarsi con esso. E già questa è una premessa che sottolinea la qualità della questione. Ho provato in passato a far leggere dei pezzi di testi scritti in maniera immersiva, quindi scrittura trasparente, pieno raccontato, pieno mostrato senza niente di tell, senza niente di raccontato, a persone casuali, ma che sono lettori medioforti. E ho notato che mi danno dei feedback non sempre positivi rispetto a testi non immersivi con tanto tell. Spesso non sanno dire il perché non gli piacciano i testi che propongo loro, ovviamente. Ma indagando un po' a fondo, dalle loro parole ho tratto un elemento comune. Stare troppo dentro il personaggio con i suoi monologhi interiori e il fatto che tutto venga filtrato dalla sua visione rende per loro la lettura meno fluida rispetto a una maggior oggettività di stile. In altre parole, sembra che preferiscano che il tutto gli venga raccontato, perché è più immediato e di facile comprensione. Dicono proprio che nei testi che gli ho mostrato la lettura è più ostica e si devono concentrare di più. So che molto del loro giudizio deriva dall'essersi ormai abituati ai romanzi scritti in modo vecchio, ma penso sia un problema, visto che è anche questo il pubblico con cui avremmo a che fare come autori. Se non sono l'unico a cui è capitata una cosa simile, come affrontare questo problema dal punto di vista dello scrittore? Luca, questa è veramente una eccellente domanda. È un'eccellente domanda perché intanto è lucida nella elaborazione, parte da premesse corrette e soprattutto si arrovella su una questione che non è di automatica risoluzione. Al solito ci possono essere molte risposte diverse a questa domanda e la principale variabile è sempre qual è la finalità della scrittura. Per esempio, io con rotte narrative ho deciso di dare un'impronta alla mia didattica che è un'impronta che non è quella di tutti gli altri. Io per esempio non vi insegno le tecniche di scrittura con l'obiettivo di farvi scrivere libri tecnicamente perfetti. Nemmeno io ho mai scritto un libro con l'obiettivo che fosse tecnicamente perfetto. Il mio focus, se notate, rispetto per esempio al focus del mio amico e anche mentore di scrittura Marco Carrara, quello è invece creare storie tecnicamente perfette. Il mio focus è invece sempre stato sul creare le storie che più possono essere apprezzate dal loro pubblico di riferimento. Questo è il mio principio personale. Non è il principio giusto per tutti, assolutamente. Ciascuno è libero di avere obiettivi diversi dalla propria scrittura, così come è legittimissimo che molte persone scrivano per il proprio diletto personale. Un tipo di scrittura che prescinda completamente dal pubblico e che prescinda completamente dalla teoria della scrittura. Non serve per forza conoscere le tecniche più avanzate di narratologia se scrivi solo per il tuo diletto personale. E poi quel testo lo farai leggere soltanto ai tuoi amici, ai tuoi compagni di Dungeons & Dragons, eccetera, eccetera. Così come non ti serve pubblicare per scrivere in quel modo, non ti serve nemmeno studiare. È giusto. Invece la mia impostazione personale, ed è il criterio in base al quale ti risponderò adesso, il mio criterio è sempre. Cerca di scrivere la miglior opera possibile per il tuo livello attuale, cioè che sei in grado di scrivere attualmente, possibilmente spingendoti oltre rispetto a tutto quello che hai scritto in passato, e prendi le tue decisioni, tutte le tue decisioni, in modo che la tua storia abbia il miglior incontro possibile con il suo pubblico. Questo cosa significa? Significa che tener conto delle caratteristiche del pubblico è parte integrante della strategia che sta dietro a un romanzo. Questo non significa che se un pubblico, un determinato pubblico, è abituato a mangiare schifezze librarie, tu debba propinargli l'ennesima schifezza libraria. Però devi essere consapevole delle conseguenze che otterrai proponendogli uno stile a cui è molto abituato rispetto a proporgli uno stile che è totalmente diverso da quello a cui è abituato rispetto ancora a una via di mezzo fra le due. Il tipo di risposta che tu vuoi avere dal tuo testo è ciò che deve guidare le scelte in base ai quali quel testo tu lo andrai a comporre. Vi faccio un esempio per capire. Anzi no, torniamo alla domanda direttamente che tanto di materiale qua ce n'è abbastanza. Il concetto è che, come giustamente dice Luca, ci sono dei lettori, anche lettori medioforti, quindi non per forza lettori disabituati all'operazione della lettura. Se però questi lettori medioforti, prendiamo un esempio dal romanzo storico che è un genere che, come sapete, bazzico molto e che conosco molto bene. Il pubblico dei romanzi storici, anagraficamente parlando, è mediamente di un'etapa abbastanza avanzata. Quindi il tipo di testi su cui questo pubblico si è abituato per non anni, ma probabilmente decenni a effettuare le sue letture erano testi, cioè il bacino letterario di testi che hanno letto e di cui si sono innamorati, erano testi scritti in un modo che obiettivamente non è particolarmente affine. Tra l'altro il romanzo storico moltiplica l'incidenza del raccontato, del tell, perché il romanzo storico deve colmare una maggiore distanza cognitiva fra il lettore e il personaggio rispetto alla media degli altri romanzi. Quindi l'impatto spiegone, il pericolo spiegone, è molto maggiore. Quindi l'autore si trova molto più spesso in circostanze in cui, in assenza di una teoria precisa a guidare le sue scelte stilistiche, tenderà a risolvere le situazioni ricorrendo alla soluzione più semplice, che è lo spiegone, l'infodump, il raccontato. Quindi in quelle circostanze lì, anni, decenni di abitudini di lettura influenzano anche il gusto. Voi lo sapete, gli esseri umani non restano per tutta la vita flessibili allo stesso modo. Noi nasciamo che siamo estremamente flessibili e poi con gli anni, con il tempo, tendiamo a irrigidirci, che significa diventiamo sempre più bravi a fare le cose che facciamo sempre, ma sempre meno capaci di farne di diverse, di abbracciare il diverso e di modificare il modo in cui affrontiamo le situazioni che ci si presentano. Tendiamo quindi a cristallizzarci ed è una cosa normale, fa parte della vita. È molto più difficile per una persona, ad esempio, di 70 anni, imparare a usare un cellulare di quanto non lo sia per una persona di 10. E a tratti la differenza sembra sconcertante, anche riducendo un po' la forbice è molto evidente la questione. Stessa cosa si ripercuote anche nei gusti di lettura. Quindi anche lettori medioforti, anche persone di grande intelligenza potrebbero avere consolidato un gusto che è rappresentativo più di qualunque altra cosa delle letture che hanno avuto fino a quel momento. Perciò attenzione, molta attenzione a interpretare quello che vi viene dato come risponso di lettura da parte di semplici lettori, da parte di lettori che non padroneggino la terminologia corretta della narrativa della scrittura. perché molto probabilmente non saranno in grado di dar forma a parole ai concetti che sentono, cioè non sapranno trasformare in concetti la sensazione che il testo fornirà a loro. Loro, l'unica cosa di cui sono consapevoli, è in modo molto vago la sensazione che gli deriva dal testo. A quella sensazione cercheranno di appiccicare delle parole, ma quelle parole tenderanno a essere appunto molto variabili. Non per niente nello scrittore speciale nel modulo 7, a proposito dei beta lettori, io vi ho messo molto in guardia dal non prendere alla lettera le cose che i beta lettori vi scrivono. Le dovete prendere come indicazioni di massima di cosa funziona per loro quell'individuo e cosa non funziona per loro. Ma le argomentazioni che poi si danno a cosa funziona e a cosa no, bisogna stare estremamente attenti a prenderle per buono. Bisogna sempre interpretare, dovete sempre essere voi a cercare di interrogarvi. Rileggiamo la domanda di Luca perché effettivamente Luca, questo distacco dalla lettera, dalla letteralità della risposta che ha ricevuto con questo esame, con questa indagine che ha fatto, lui questa distanza l'ha apportata, quindi non ha preso per buono quello che gli è stato detto. Vediamo quindi, ancora una volta, lo rileggiamo. Una domanda per te. Ho notato che mi danno dei feedback non sempre positivi sullo show, sul mostrato. Non sempre positivi rispetto a testi non immersivi con tanto tell. Spesso non sanno dire perché non gli piacciano i testi che propongo loro. Ovviamente. Ma indagando un po' dalle loro parole ho tratto un elemento comune. Questo del indagare le parti comuni che emergono dalle parole di tante persone diverse è uno dei sistemi più affidabili per scremare il brusio di fondo del ho una sensazione ci appiccico sopra parole e non so bene in realtà quello che sto facendo quantomeno vi permette di tracciare una curva a campana delle risposte che disegna un intorno all'interno del quale sta probabilmente annidata la risposta o qualche indizio per trovare la vostra risposta. non so dire perché indagando un po' dalle loro parole ho tratto un elemento comune stare troppo dentro il personaggio con i suoi monologhi interiori e il fatto che tutto venga filtrato dalla sua visione rende per loro la lettura meno fluida rispetto a una maggior oggettività ma immagino volessi scrivere soggettività di stile. In altre parole sembra che preferiscano che il tutto gli venga raccontato perché è più immediato e di facile comprensione. Qui sta il punto. Dicono proprio che nei testi che gli ho mostrato la lettura è più ostica e che si devono concentrare di più. Torniamo al discorso di prima. Non è solo una questione anagrafica. Io ho fatto l'esempio dell'età ma non è solo l'età. Quando parlo di abitudini di lettura intendo anche i metodi i modi gli approcci alla lettura cosa la lettura significa per ciascuno. esistono molti lettori che non affrontano la lettura come un arricchimento o come un puzzle o come una struttura enigmistica da cui trarre indizi o come un percorso di conoscenza che possa arricchire la loro vita con le esperienze di punti di vista diverso dal proprio. No. Non è così per tutti. Se questi sono i modi in cui la lettura se questo è quello che la lettura è per voi benissimo questo qualifica il tipo di lettori che voi siete ma molti lettori non sono così molti lettori non amano che la che la lettura evochi in loro delle esperienze di altre vite possibili. Per molti noi diamo per scontato quando io vi insegno la le tecniche di scrittura nei line editing del giovedì oppure quando guardate le lezioni dello scrittore speciale dove vi insegno come creare delle scene vivide piene di dettagli e filtrate dalla psicologia del personaggio che quindi influenza lo stesso modo in cui il personaggio vive e vede il mondo attorno a sé io parto sempre dal presupposto che voi queste tecniche le dobbiate padroneggiare le dovete dovrete per sempre padroneggiare per imparare perché perché non sono intuitive perché quelle sono difficili da imparare da soli avete bisogno di qualcuno che ve le insegni perché la teoria è complessa e una volta solo una volta che l'avrete studiata approfonditamente potrete farvi ricorso ma badate bene quella quel tipo di scrittura lì è orientata a creare con la prosa una illusione di mondo reale di situazioni reali quel tipo di scrittura che io vi insegno la scrittura trasparente o immersiva che dir si voglia è basata sul concetto che il narratore sparisca lasciando emergere la storia lasciando che la storia si racconti da sé nell'interazione fra la realtà oggettiva in cui si muove il personaggio il portatore di punto di vista e l'interiorità del punto di vista stesso quindi è la storia che va raccontandosi da sola nell'interazione fra il protagonista e il mondo esterno d'accordo? questo è il è il punto di partenza questa narrativa però non è la preferita di tutti è la preferita di chi ha fame di altre vite è la preferita di chi vuole scoprire cose nuove è la preferita di chi vuole essere stimolato da quello che legge da chi vuole essere chiamato in causa da quello che legge che vuole essere lì e vivere le stesse emozioni che vive il personaggio momento per momento d'accordo? il nucleo fondamentale della scrittura immersiva è non per niente l'empatia tutto si basa su creare esperienze di storie che possano trascinare il lettore a vivere le cose come le vive il personaggio badate bene non è una cosa scontata e non è l'unico modo esistente di fare letteratura ci sono ad esempio moltissime letterature moltissime tipologie di libro che sono totalmente consolatorie e che non servono cioè non vogliono essere della tipologia che vi ho descritto i lettori non vogliono che lo siano ci sono molte tipologie di libri così come ci sono molti lettori che non desiderano imparare cose nuove leggendo non desiderano trovarsi in situazioni che non conoscono se questa cosa che vi sto dicendo vi crea problemi è un problema vostro perché questa è la verità questa è la realtà dei fatti e l'esperimento che ha fatto Luca è stato molto evidente è stata una rappresentazione di questo un'esemplificazione ma lo potete vedere in tanti modi ci sono tanti ad esempio tanti libri che sono estremamente formulari provate voi a proporre a un lettore di Rosa un libro che finisca con i due protagonisti che non si mettono insieme vi distrugge vi odia parlerà malissimo del vostro libro non c'è verso voi dite sì ok ma se è scritto bene il libro no 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 non lo vuole non vuole un'esperienza verosimile non vuole qualcosa di leggere qualcosa di nuovo no non lo vuole perché il fantasy moltissimi lettori di fantasy vogliono il fantasy con gli elfi i nani e i draghi anche se ne hanno già letti 50 perché questo è quello che vogliono e se quei lettori vogliono quello quei lettori risponderanno in quel modo alla scrittura non vogliono sentirsi troppo coinvolti personalmente nella scrittura significa che la loro relazione con i libri vogliono che sia di un altro tipo e in quei casi probabilmente la narrativa immersiva non gli piacerà e può essere per vari motivi può essere che siano persone abituate a sentirsi spiegare il mondo e poco abituate a interpretarselo per conto proprio questa è una situazione molto comune e non per niente i libri scritti mostrato ai bambini non piacciono mai quasi mai perché? perché i bambini sono abituati a sentirsi raccontare il mondo a sentirselo spiegare dagli altri gli serve un narratore gli serve una voce esterna che gli spieghi le cose così come il deus ex machina che è delle robe più odiose per i lettori adulti specie quelli un po' esigenti ai bambini piace tantissimo ma perché sono abituati che sia così quando fanno un danno quando si crea un pasticcio c'è un deus ex machina che arriva e gli risolve il pasticcio che sono i loro genitori d'accordo abituatevi a orientare il vostro pensiero in questa direzione quello che il vostro pubblico il pubblico che voi vi scegliete quello che è la sua abitudine di lettura deve orientare le vostre scelte di scrittura tenetene conto ripeto non significa per forza che voi dobbiate dargli esattamente quello che si aspettano ma dovete sicuramente tenere conto di cosa si aspettano altrimenti il vostro libro andrà in un modo che non vi aspettavate e che probabilmente non desideravate e allora magari meglio saperlo prima che pentirsene dopo giusto? benissimo quindi così come questa è una questione reale da conoscere ed è uno dei motivi per cui io vi sprono sempre prima di mettervi a scrivere un libro è descritto questo questa cosa è spiegata approfonditamente nel modulo 3 dello scrittore speciale quello relativo alla rotta dello scrittore come mai io insisto tanto che voi leggiate romanzi scritti da autori italiani negli ultimi cinque anni e ne leggiate diversi per farvi un'idea della nicchia anche per questa ragione non basta leggerne uno ne dovrete leggere un po' capite cosa è abituato a leggere il pubblico di quella nicchia e decidete così così che possiate anche capire se il tipo di stile che voi volete usare per il vostro libro sia adatto a quella nicchia di pubblico per esempio a me storie in raccontato non credo che mi piacerebbe molto scriverle e perciò credo che mi troverei un po' a disagio a proporre un romanzo a scrivere un romanzo rosa con tutte le tipi no non è vero il rosa probabilmente potrebbe funzionare ci sono comunque i literari il romanzo letterario che è quasi tutto impastato di voce autoriale che quando hai quando sei lo strafigo di turno e hai una voce fenomenale benissimo d'accordo me lo godo anch'io me lo gusto anch'io però obiettivamente non è narrativa nel senso immersivo del termine chiaro no? siamo d'accordo su questo ecco io invece preferisco creare realtà più oggettive ma è vero che la totale immersione non sia il preferito di tutti i lettori ad esempio vi ho fatto non per caso l'esempio del romanzo storico non ho adotto lo stesso stile quando scrivo un romanzo storico per il grande pubblico che quindi va a pescare il bacino di pubblico che è quello tipico del romanzo storico rispetto a quando scrivo fantasy che ha un'età anagrafica media molto più bassa a un pubblico che è abituato ad avere referenti culturali diversi che legge in un modo diverso fruisce contenuti mediatici diversi in eterna luora ho infilato dentro un sacco di riferimenti al mondo videoludico per quanto fosse una storia ambientata nel 1300 ma le meccaniche in base a cui ho fatto funzionare le lande dello spirito sono quelle perché è una questione di target si prendono decisioni in base al target nei miei romanzi storici invece in diverse occasioni ho fatto delle concessioni al raccontato e questo perché bisogna tener conto del proprio pubblico badate bene questa è la mia strada la mia scelta discorso che vi facevo all'inizio non sto dicendo che anche voi dobbiate per forza fare così non ne cioè se voi volete scrivere storie che piacciono a voi in primo luogo e al pubblico uguale a voi questa è una cosa che va bene è una cosa assolutamente plausibile se voi ad esempio in particolare se non vi rivolgete al grande pubblico ma vi volete costruire una nicchia anche abbastanza ristretta vi va bene però che rispecchi esattamente la volontà stilistica che voi volete esprimere avete tutto il mio rispetto sarà probabilmente più complicato e probabilmente farete più fatica a far combaciare questo intento con l'ambiente editoriale però lo potete fare assolutamente se invece puntate al grande pubblico come faccio io dovete tenere in considerazione anche l'aspetto che Luca ha sollevato e secondo me qua c'è un passaggio che rende che incarna molto uno degli aspetti fondamentali dell'annosa questione lo show non piace non è vero che piaccia sempre a tutti più del tell vediamo se la ritrovo il fatto che tutto venga filtrato dalla visione del protagonista no sì indagando un po' dalle loro parole ho tratto un elemento comune stare troppo dentro il personaggio con i suoi monologhi interiori e il fatto che tutto venga filtrato dalla sua visione rende per loro questi lettori la lettura meno fluida rispetto a una di maggior soggettività di stile lui tra l'altro ha usato la parola oggettività invece di soggettività probabilmente intendendo a una a una rispetto a leggere cose a leggere storie in cui ci sia una voce che presenti la realtà in un modo univoco e quindi più ordinato meno difficile da decifrare è così e voi capite dal tipo di reazione che questi lettori hanno potete ricostruire a ritroso qualcosa della fisionomia mentale di questi lettori è normale è giusto avere in mente il vostro lettore conoscere i suoi processi mentali mentre voi scrivete è quello è o non è quello che io vi sprono in continuazione a fare quando facciamo il line editing è così dovete conoscerlo al vostro pubblico dovete immergervi nel vostro pubblico per capire come pensa e in base a come pensa e in base a quello che nota o che non nota in base a quanta difficoltà ha nel affrontare determinate questioni o a quanto si annoia a essere troppo assistito nel capirle queste cose le dovete conoscere e dovete tenerne conto per orientare le vostre scelte ok quindi direi di avere che ho dato una risposta esaustiva a questo argomento esaustiva non significa che esaurisca in realtà l'argomento perché di questo argomento si potrebbe andare avanti a parlare per no ore ma giorni e comunque non lo esauriremmo perché è un argomento vasto come variabili sono le tipologie le tipologie dei lettori e ogni lettore fa da sé quindi sul discorso raccontato o mostrato quello che posso questo che vi ho detto è una diciamo è lo svolgimento di una criticità reale affronterò questo discorso più avanti in una una tipologia di contenuti che voglio preparare per verso la fine dell'anno forse l'anno prossimo non ancora perché è complessa è lungo questo discorso e richiede tante premesse per essere svolto in modo argomentato e completo però qua volevo dare una prima trattazione per chiarire un po' le idee approfittando della domanda di Luca detto questo detto tutto questa cosa che vi ho detto questo che vi ho detto è una raccomandazione scrivete a cazzo di cane e scrivete tutto in tel perché tanto ai lettori piace il tel no proprio no perché perché la letteratura sta cambiando quello che è vero ancora oggi cioè oggi noi vediamo dei processi di modifica che sono generazionali e stiamo sia vedendo i prodromi di quello che verrà stiamo anche vedendo le code di quello che c'è stato ma la proporzione fra le due cose è molto variabile a seconda dei generi che andiamo di volta in volta a considerare quindi potremmo essere noi stessi molto avere anche dei grossi bias nel ritenere quanto impattanti siano certe dinamiche in certi luoghi rispetto ad altri perciò io vi do una raccomandazione a meno che sappiate esattamente tutte queste cose che vi ho detto e ne sappiate anche le molte che non vi ho ancora detto perché come vi dicevo il discorso è complesso ne volete una di raccomandazione studiate a scrivere imparate a scrivere in mostrato imparate a farlo non ponetevi la question cioè non usate come scusa il fatto che esistano lettori che preferiscono il tel sì è vero ci sono sinceramente voi non volete rivolgervi a quelli questo ve lo dico se vi fidate fidatevi se non vi fidate fate quello che vi pare a me non frega niente voi imparate a scrivere in mostrato perché chi comincia oggi a scrivere vuole essere capace di scrivere in perfetto mostrato se un domani o un dopodomani deciderà di scrivere anche qualcosa che per il suo pubblico per il vasto pubblico per un pubblico generalista un pubblico che è abituato anche a leggere schifezze eccetera eccetera vorrà anche proporre delle cose semplificate perché si accorge che cose eccessivamente immersive per quel pubblico lì non vanno bene bene d'accordo ne tenga conto ma adesso per iniziare deve saper scrivere in perfetto mostrato e infatti se voi provate a mandarmi delle cose scritte in tel nei nei line editing del giovedì sera io non per niente vi stronco a meno che non capisca e sono in grado di capirlo perfettamente se voi siete così bravi da riuscire a far piacere il vostro hotel anche a chi come me adora il mostrato allora in quel ma non me ne è ancora capitato uno in 25 in 26 adesso sessioni di line editing su multipli incipiti per volta non è ancora successo una volta che io dicessi è scritto in tel ma mi piace non lo cambierei da così come non è ancora successo una volta mi è capitato di leggere libri scritti così e esistere ci sono anche i gusti personali ragazzi anzi i gusti personali vincono d'accordo questo rimuove tutto quello che vi ho detto no imparate a scrivere in mostrato perché se siete capaci di scrivere in mostrato e siete capaci di scegliere quando cosa e perché eventualmente andare più lisci con un po' di raccontato per semplificare la vita fare reinserire determinati ok va bene starete un po' sporcando la vostra qualità ma se lo fate consapevolmente e lo fate perché avete in mente il motivo per cui lo fate d'accordo allora è una vostra scelta magari qualcuno potrebbe non non esserne contento qualcuno probabilmente preferirebbe che voi non lo faceste qualcuno fra i vostri lettori ma se voi sapete per chi lo state facendo e sapete per esempio che quelli a cui questa stampella è d'aiuto rispetto a quelli a cui questa stampella dà fastidio sono più numerosi se i primi sono più numerosi allora è legittimo sceglierlo o magari a voi va di scriverlo così d'accordo non fatelo adesso adesso non dovete essere pigri fino a quando non siete degli autori di best seller non avete il minimo titolo per giustificarvi del non saper scrivere in perfetto mostrato va bene ragazzi e con questo abbiamo risposto a Luca io vi saluto iscrivetevi al canale di Rotte Narrative se non l'avete ancora fatto non l'avete ancora fatto fatelo subito quindi iscrivetevi accendete la campanellina iscrivetevi alla nostra newsletter per partecipare ai line editing del giovedì sera dove vi massacrerò in diretta i vostri testi provate a mandarmi dei testi in raccontato vediamo come vi riduco arrivederci a tutti ciao ragazzi